Grande fermento nel mondo della mediazione creditizia e immobiliare, infatti recente l'entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza che ristabilisce di fatto la compatibilità tra la professione di mediatore creditizio e mediatore immobiliare. Abbiamo oggi qui con noi Gian Battista Baccarini, Presidente nazionale di Chiaip. Prima di tutto grazie dell'invito, ci tenevamo particolarmente perché, come tutti sanno, la nostra federazione ha guidato il percorso l'iter legislativo a livello ovviamente di attività sindacale e quindi su questo tema che riteniamo abbia una ricaduta molto positiva per quanto riguarda il settore dell'intermediazione immobiliare e dell'intermediazione del credito, credo che sia giusto e opportuno fare, auspichiamo definitiva chiarezza nel merito. Io distinguerei due livelli, due piani. Da una parte c'è la normativa, c'è la legge sulla quale entreremo più tardi nel merito e dall'altra c'è la visione che credo che sia la base poi di quello che ha spinto la nostra associazione diciamo a lavorare politicamente al fine di ottenere il ricepimento della proposta emendativa. E la nostra visione è quella dell'agenzia immobiliare professionale multidisciplinare FIGITAL. No all'agente immobiliare tuttofare, quindi noi non riteniamo che una stessa figura professionale possa esercitare due attività, possa esercitare due professionalità, esprimere due professionalità, anzi al contrario proprio perché il nostro lavoro è sempre più complicato, è sempre più articolato, è pieno di oneri, addimentimenti, burocrazie e necessita di una specificità che va salvaguardata. Riteniamo che però nello stesso tempo all'interno di uno stesso luogo che è appunto l'agenzia immobiliare si possa avere l'opportunità di erogare più servizi nel massimo rispetto delle competenze professionali verticali e questo farlo appunto però non nel luogo definibile società multiservizi ma appunto all'interno dell'agenzia immobiliare perché come spesso mi piace sottolineare la nostra federazione rappresenta le agenzie immobiliari, non rappresenta le società multiservizi. Questo tipo di società è già esistente già da anni, anzi grandi gruppi imprenditoriali, hanno diversi rami d'azienda e già erogono più servizi correlati a quello di intermediazione immobiliare, quindi hanno la rete di intermediazione del credito, hanno la rete di intermediazione assicurativa, di gestione di patrimoni immobiliari, di amministrazione condominiale, hanno già tante realtà ma fanno tutte capo a un unico diciamo padrone. Ecco noi riteniamo che proprio le piccole realtà che sono quelle che noi rappresentiamo per la stragrande maggioranza, quindi quel 70-75% di agenzie immobiliari ditte individuali che hanno al massimo 2-3 tra collaboratori e dipendenti, possono avere questa opportunità all'interno dello stesso luogo quando il cliente entra in agenzia, possono usufruire non solo del servizio prioritario di intermediazione immobiliare ma poi chi compra una casa, solitamente 8 persone su 10 devono fare un mutuo, quindi avere l'opportunità all'interno dello stesso luogo di avere una figura professionale che nel rispetto dei requisiti di legge dei percorsi normativi possa erogare anche il servizio di consulenza e intermediazione del credito, ovviamente ripeto massimo rispetto di ciò che la legge stabilisce, poi chi compra la casa e fa un mutuo poi dovrà fare un'assicurazione sulla casa e o un'assicurazione sul mutuo e quindi avere all'interno della struttura un'altra figura professionale che possa erogare il servizio di bloccheraggio assicurativo, quindi di intermediazione assicurativa. Parliamo sempre di intermediazione, di mediazione, quindi di figure terze, ovvero che non vendono diciamo prodotti di proprietà, quindi in questo caso l'agente immobiliare sappiamo non vende le case di sua proprietà ma quelle appunto dei cittadini, così come l'intermediario del credito vende diciamo i prodotti non di una banca ma di tutte quelle banche che fanno accordivamente con la società di riferimento per la quale il collaboratore opera e lavora, così come nell'ambito assicurativo di broccheraggio c'è l'opportunità di offrire la migliore assicurazione, così come potrà usufruire anche del servizio per esempio attraverso un'altra professionalità di gestione di patrimonio immobiliare, cioè uno compra per investimento, vuole affettare l'immobile per periodi brevi o per periodi anche lunghi a necessità che all'interno della struttura agenziale dell'agenzia gli venga offerto il servizio appunto di gestione quindi se c'è la necessità che l'inquilino abbia un problema con un elettrodomestico piuttosto che la necessità di un intervento di un artigiano piuttosto che a fine locazione di risanare diciamo il bagno piuttosto che una stanza dell'appartamento ecco un servizio di gestione che possa essere erogato all'interno dell'agenzia però ovviamente tramite una professionalità specifica e nel rispetto come dicevo dei requisiti che la legge impone così come il servizio di amministrazione condominiale per quanto ci riguarda il cliente che entra in agenzia ci dà da vendere una palazzina da 7-8 appartamenti che ha magari ristrutturato quindi parliamo di un imprenditore e poi ci chiede se possiamo erogare anche il servizio di amministrazione condominiale una volta che la palazzina è ristrutturata e venduta in tutte le sue unità abitative se potessimo all'interno della stessa struttura della stessa agenzia avere una professionalità distinta che possa erogare questo tipo di servizio secondo noi daremmo un servizio più ampio a 360 gradi ripeto all'interno di uno stesso luogo e da qui la necessità di una compatibilità tra la nostra attività e quella di questi servizi di cui appena accennato ecco riteniamo che questo possa essere un servizio nell'interesse del mercato ma soprattutto nell'interesse della comunità della collettività dei consumatori e poi ovviamente a una ricaduta positiva sulla centralità dell'agenzia immobiliare multidisciplinare nell'ambito della filiera immobiliare ci teniamo nel nostro tempo a sottolineare anche che per noi la professionalità dell'agente immobiliare è centrale e su questo credo che ci sia trasversalmente riconosciuto l'attività che abbiamo messo in atto come federazione già cinque anni fa che abbiamo voluto dare un senso compiuto e concreto a quella p di professionale che chiude tra l'altro il nostro acronimo di fiaip attraverso la ideazione e la realizzazione di un modello professionale di lavoro noi sappiamo che la legge ci dice come diventare un agente immobiliare ma non ci dice come svolgere l'attività di agenti immobiliari quindi abbiamo voluto creare appunto noi diciamo abbiamo avuto l'onore ma anche l'onere di definire un modello di lavoro che sostanzialmente si concretizza nell'immettere sul mercato immobili preventivamente verificati controllati a livello documentale anche soprattutto attraverso professionisti convenzionati come i tecnici quindi dal punto di vista condominiale diritto urbanistico catastale di provenienza che non ci siano pesi gravami ipoteti privilegiati d'obbligo patti speciali impiantistico cioè un controllo una due diligence molto articolata prima di mettere l'immobile sul mercato e tenendone conto nella più corretta valutazione di mercato dell'immobile quindi in sede di valutazione a questo punto l'immobile può essere immesso sul mercato e non avrà problematiche sia per l'acquirente non ce ne saranno sia per il venditore e ci sarà una ricaduta positiva sulla nomea e sull'immagine dell'agente immobiliare professionale su questo abbiamo con l'ente nazionale normazione fatto un percorso e questo modello di lavoro questa procedura operativa professionale è divenuta una prassi di riferimento a maggio del 2018 e ora sono in corso i lavori per la trasformazione in norma uni la trasformazione in norma 1 diventa un elemento molto importante perché quando e se il legislatore deciderà come noi agenti immobiliari dovremmo lavorare partirà come base da ciò che troverà all'interno del serbatoio dell'uni e troverà la norma uni definita appunto da noi agenti immobiliari e non da componenti diciamo della politica da un legislatore che ovviamente non conosce le dinamiche diciamo della nostra attività quindi è un processo molto importante quindi la professionalità dell'agente immobiliare ma anche la multidisciplinarità diviene fondamentale non solo per restare sul mercato ma per cercare di cavalcarlo e di venire sempre più al centro della filiera immobiliare e questa nostra visione della multidisciplinarità legittimamente non viene vista allo stesso modo da altre realtà associative dello stesso comparto in particolare l'associazione di categoria che diciamo contrasta fortemente la legge appunto la legge concorrenza appena entrata in vigore ha una visione differente diciamo che teme di più ciò che possono fare gli altri rispetto a quello che possiamo fare noi in più e questo ripeto è una posizione più che legittima quello che invece è poco soggettivo o meglio è oggettivo è l'articolato della legge quindi ciò che la normativa ha espresso e lo è stato espresso diciamo nel merito delle diciamo così novità che partono da una procedura di infrazione europea del 2018 la procedura 2175 oramai nota per gli addetti ai lavori questa procedura sostanzialmente cosa prevedeva prevedeva o meglio sollecitava il nostro paese il nostro stato minacciandolo appunto di sanzioni contro il nostro paese di allentare il nostro regime delle incompatibilità quello ovviamente è riferito alla legge 3989 cioè la nostra categoria di agenti immobiliari perché riteneva questo regime di incompatibilità eccessivamente rigido eccessivamente stringente che impediva secondo la commissione europea lo sviluppo di modelli commerciali innovativi e flessibili a tutela e a salvaguardia delle moderne esigenze dei cittadini quindi l'europa era ed è orientata non tanto a offrire delle opportunità in più alle nostre agenzie immobiliari ma salvaguardare l'interesse del consumatore del cittadino che appunto voleva e vuole quando entra in agenzia che l'agenzia nell'agenzia immobiliare possa trovare ulteriori servizi oltre a quello puro di intermediazione immobiliare ovviamente servizi correlati all'attività strettamente attinenti all'attività di intermediazione immobiliare sono quelli di cui si accennava in precedenza i servizi di consulenza intermediazione del credito quello di intermediazione brocchieraggio assicurativo quella di gestione di patrimonio immobiliare quella di amministrazione condominiale questi sono i servizi che noi abbiamo lavorato a quel punto con la spinta europea e con la spinta diciamo della posizione politica della visione politica della nostra federazione nel 2018 2019 con la legge europea 2018 che poi è divenuta la legge 37 2019 che è entrata in vigore il 26 maggio abbiamo presentato una proposta emendativa una proposta emendativa che dopo un percorso e un interlegislativa è stato è stata ricepita testualmente testualmente vuol dire che proprio a livello letterale parola per parola per intenderci è stato ricepito nell'articolato ripeto la legge 37 2019 quindi una legge di tre anni e mezzo fa cosa è accaduto con questa modifica di tre anni e mezzo fa è accaduto che è rimasta l'incompatibilità con le attività imprenditoriali di produzione vendita rappresentanza o promozione di beni cioè di immobili beni afferenti al nostro settore cioè immobili in pratica i costruttori chi vende produce promuove o rappresenta un immobile non può giustamente intermediare ma noi abbiamo fatto togliere la parola e servizi quella parola e servizi ha consentito alle nostre agenzie immobiliari di poter erogare appunto o meglio più tecnicamente di poter svolgere un'attività imprenditoriale di produzione vendita rappresentanza o promozione di servizi afferenti al nostro settore cioè di servizi immobiliari e quali sono questi servizi immobiliari sono i servizi che accennavo prima quelli che interessano l'ambito immobiliare e sono quelli legati al credito quindi a chi effettua un finanziamento quando compra una casa le assicurazioni che deve fare correlate al mutuo e alla casa l'ambito di amministrazione condominiale di gestione di patrimoni immobiliari questi sono i servizi che sono stati aperti ma voglio sottolineare in particolare il servizio di mediazione creditissima che quindi tre anni e mezzo fa è stato reso compatibile in quella legge abbiamo anche ottenuto l'introduzione dell'incompatibilità con i dipendenti bancari finanziari assicurativi ma soprattutto i dipendenti bancari voi sapete che purtroppo le banche possono come alcune hanno creato agenzie immobiliare possono essere proprietari di agenzie immobiliare ma con questa legge i loro dipendenti giustamente perché vendono il prodotto di quella banca non possono e non devono normativamente poter fare il nostro lavoro perché perderebbero quella caratteristica peculiare che è la terza età ma tornando sul tema della mediazione del credito questa legge quindi tre anni e mezzo fa si apre alla mediazione del credito e successivamente a questa legge tutta la consulta dell'intermediazione nazionale dell'intermediazione immobiliare nazionale quindi anche le altre realtà associative importanti hanno applaudito a questa legge e abbiamo fatto un comunicato congiunto il 17 aprile quindi un mese prima circa dell'entrata in vigore della legge e addirittura il mese prima ancora cioè il 12 marzo del 2019 l'associazione di categoria che oggi contesta fortemente la legge appunto che ha ripristinato la compatibilità tra la nostra attività e quella di mediazione del credito addirittura aveva prodotto un comunicato stampa nel quale diceva che l'emendamento era il suo era esattamente uguale conforme al testo presentato da questa associazione di categoria che ricordo e risottolinea aveva aperto aperto alla compatibilità quindi tra l'attività di mediazione immobiliare e l'attività di mediazione del credito cioè esattamente l'opposto di quello che oggi invece contesta essere una cosa molto grave dannosa per la nostra attività poi cosa accade succede che un anno e mezzo dopo ovvero il 16 novembre del 2020 facciamo una riunione di consulta all'interno della quale la stessa associazione di categoria che ad oggi appunto fortemente contrasta questa compatibilità manifestamente e verbalizzato all'interno appunto del verbale della riunione di consulta prevede e dichiara diciamo per merito ovviamente della presidenza nazionale dichiara che essendo che questa associazione al suo interno rappresenta 17 società di mediazione del credito la cosiddetta consulta del credito e questa consulta del credito cioè le 17 società di mediazione del credito rappresentate da questa associazione dichiarano di essere fortemente contrarie alla compatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e l'attività di mediazione del credito e quindi la linea di questa federazione diventa quella di contrastare questa compatibilità e quindi comincia ad operare politicamente a lavorare politicamente e devo dire in maniera efficace riesce a ottenere la modifica della legge quindi della 39 89 e questa modifica entra in vigore circa 10 mesi fa il primo febbraio di quest'anno con la legge 238 del 2021 entra in vigore questa norma e in pratica cosa succede con questa legge con questa legge e diciamo l'emendamento proposto da questa associazione reintroduce reintroduce l'incompatibilità tra la nostra attività e l'attività di dipendente o collaboratore delle imprese dei servizi di cui alla legge articolo 4 dl 59 2010 in sostanza reintroduce la incompatibilità tra la nostra attività e il dipendente o il collaboratore delle società di mediazione del credito lo voglio sottolineare dipendenti o collaboratori di società di mediazione del credito ma perché si parla di dipendenti o collaboratori ma soprattutto dei collaboratori perché nel frattempo nel 2010 con la legge 141 2010 questa legge quindi parliamo di 12 anni fa è una legge che ha regolamentato la mediazione del credito prima di questa legge c'era la figura dell'agente mediatore del credito partita iva professionista individuale al pari se vogliamo dell'agente immobiliare professionista partita iva poi lo stato ha voluto normare la mediazione del credito perché lo ha voluto fare lo ha voluto fare proprio perché l'agente mediatore del credito professionista partita iva come dire operava in un ambito molto delicato per il cittadino molto delicato e inerente la sfera dei risparmi la sfera dell'indebitamento privato personale della propria famiglia quindi ha voluto imporre che questo tipo di attività potesse essere svolta solo ed esclusivamente tramite una società di capitali con un versamento di capitale sociale ovviamente con dei minimi requisiti di legge e che facesse perché la società perché la società doveva fungere da garante da filtro diciamo di chiamiamolo filtro di qualità di vigilanza affinché i collaboratori delle società di queste società potessero svolgere la propria attività nel massimo della linearità della trasparenza proprio per la delicatezza dei servizi che andavano ad erogare quindi sparisce la figura parliamo di 12 anni fa legge 141 2010 sparisce la figura dell'agente mediatore del credito al pari dell'agente immobiliare diciamo partita iva ma diventa collaboratore della società di mediazione del credito il professionista il consulente del credito diventa il collaboratore e quindi è chiaro che quest'altra associazione nel qualche mese fa 10 mesi fa per reintrodurre questa incompatibilità tra la nostra attività e quella di mediazione del credito ha voluto inserire testualmente l'incompatibilità con il dipendente o il collaboratore delle società di mediazione del credito in questo modo di fatto veniva impedita appunto la possibilità di sviluppare quel modello multidisciplinare di cui parlavamo prima dove all'interno della propria agenzia si potesse avere una figura compatibile con il collaboratore che potesse erogare appunto il servizio in ambito creditizio ma il diciamo così tecnicamento perlomeno mi viene da definirlo la gravità di questo articolato della legge 238 2021 voluta da questa altra associazione di categoria sta nel fatto che il legislatore per bilanciare l'introduzione di un'ulteriore incompatibilità quella appunto con la mediazione del credito ha aperto ha aperto lo voglio sottolineare a tutti i dipendenti privati ovviamente eccetto i dipendenti dei costruttori i dipendenti bancari finanziari assicurativi ma per il resto tutti i dipendenti ovviamente nel rispetto dei requisiti normativi di legge possono svolgere la nostra attività a proposito di svilimento di sminuire ecco in particolare vorrei sottolineare che grazie tra virgolette ironicamente a questa legge voluta da quest'altra associazione i dipendenti dei professionisti immobiliari mi riferisco dipendenti dei notari dei geometri degli architetti degli ingegneri possono nel rispetto dei requisiti di legge svolgere grazie a quella legge possono svolgere la nostra attività quindi noi cosa facciamo quando entra in vigore quella legge dieci mesi fa possiamo dire che politicamente abbiamo cercato di contrastarla in tutti i modi questa legge perché di fatto andava a precludere a noi agenti immobiliari alla nostra categoria l'opportunità e la possibilità di erogare un servizio ulteriore quello in ambito creditizio andando ad aprire come dicevo ai dipendenti dei professionisti immobiliari quindi noi abbiamo cercato di avversare questa legge ma il 2 novembre del 2021 che è stato il giorno decisivo in aula e il senato abbiamo perso di qua abbiamo come linea politica perso di 11 voti e quindi è passato l'emendamento proposto da quest'altra associazione e quindi politicamente diciamo così abbiamo perso si può dire in questi termini credo che per quanto ci riguarda la categoria in quel momento abbia perso ma ci siamo tra virgolette rialzati cercando di lavorare il massimo rispetto ma dal punto di vista politico in maniera presente pressante per cercare di cambiare le cose e quindi da gennaio di quest'anno con i ddl concorrenza abbiamo iniziato a produrre la nostra attività politico sindacale e su due fronti da una parte quello europeo abbiamo prodotto una denuncia alla commissione europea e questa denuncia è stata poi replicata anche da altre due associazioni di categoria una del mondo delle professioni con associazioni e l'altra nel mondo della mediazione del credito ama e poi abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare tramite ovviamente euro parlamentare di riferimento del partito popolare europeo e abbiamo a livello interno interloquito ovviamente con il governo abbiamo fatto una proposta emendativa abbiamo fatto un'audizione in commissione decima alla camera abbiamo fatto tutto il processo diciamo come dicevo prima legislativo fino a arrivare al 14 luglio quando è caduto il governo al 14 luglio è caduto il governo il giorno dopo c'era la riunione decisiva il 15 luglio in cui si sarebbe votato l'emendamento appunto che ripristinava la compatibilità tra la nostra attività e quella di mediazione del credito ma cadendo il governo questa riunione non si è fatta è stata spostata al 22 luglio quindi a circa una settimana dopo e qui vorrei sottolineare che non è stato un blitz del governo nell'inserire un emendamento all'ultimo minuto qui è avvenuto che essendo che il ddl concorrenza conteneva e contiene dei provvedimenti determinanti per ricevere le risorse del pnrr il governo draghi seppur dimensionari in accordo con tutte le forze politiche hanno concordato di chiuderlo il concorrenza per necessità hanno eliminato tutti gli emendamenti aggiuntivi ma l'emendamento chiamiamolo di fiaip è rimasto perché è stato nel frattempo tecnicamente riformulato tramite il ministero dell'economia e finanze in accordo con il mise e anche con l'apporto della nostra federazione e quindi è stato presentato in commissione decima dallo stesso governo e quindi è stato votato favorevolmente da tutte le forze politiche perché il nostro emendamento era stato sottoscritto da 24 parlamentari di tutte le forze politiche a parte il movimento 5 stelle che è la forza politica che aveva sostenuto l'emendamento diciamo dell'altra associazione circa dieci mesi fa quindi questo è l'iter con cui è avvenuto dopodiché c'è stata l'aula alla camera al senato insomma e la pubblicazione in gazzetta e il 27 agosto è entrato in vigore il nostro articolato quindi voglio anche sottolineare che nel periodo diciamo cruciale della commissione decima in cui si è deciso l'approvazione dell'emendamento c'è stata giustamente l'attività politica di contrasto dell'altra associazione di categoria che non è stata diciamo efficace ma come la nostra non era stata efficace qualche mese prima è questione diciamo così di lavoro e di attività politico sindacale che sta nelle sue dinamiche diciamo generali e normali quello che credo sia decisivo importante per tutta la categoria sia il mondo dell'intermediazione del credito che del mondo dell'intermediazione immobiliare che l'articolato visto che si è discusso dell'articolato prevede i due commi nel primo comma c'è proprio il ripristino della compatibilità perché vi ricordo tre anni e mezzo fa avevamo ottenuto questa compatibilità quindi il ripristino ecco perché parliamo di ripristino di compatibilità tra la nostra attività quella di agente immobiliare e l'attività del dipendente o collaboratore delle società di mediazione del credito perché come marcavo prima solo il collaboratore della società di mediazione del credito può mediare fisicamente il credito cioè colui il professionista che raccoglie la pratica del mutuo dal cittadino e la porta alla banca è il collaboratore della società di mediazione del credito non esiste altra figura non è a meno che non si entri nell'illegalità quindi vorrei marcare e sottolineare che la società di mediazione del credito non media fisicamente il credito la società fa gli accordi con le banche e tutte le società di mediazione del credito hanno accordi con tutte le banche per i motivi che dicevo prima perché deve essere quel filtro di garanzia per il legislatore nei confronti del cittadino che deve essere salvaguardato e tutelato ma chi opera sul campo è il collaboratore questo è il motivo per cui abbiamo voluto il ripristino tra la nostra attività di agente immobiliare che è colui che media in ambito immobiliare e il collaboratore della società che media fisicamente nell'ambito appunto finanziario meglio del credito il secondo comma che con il quale è stata modificata la legge 141 2010 la legge che ho citato prima che ha introdotto diciamo il modello attraverso il quale si può esclusivamente esercitare in ambito creditizio l'intermediazione quindi con una società e con i collaboratori che operano per quella società è tecnicamente una norma che viene definita di reciprocità e vorrei sottolineare che non si parla di società di mediazione del credito la norma quel secondo comma dell'articolo 28 parla di attività di mediazione del credito che viene resa compatibile tra le altre con l'attività di agente immobiliare ma chi è che media il credito cioè chi svolge l'attività di mediazione del credito sono i collaboratori delle società di mediazione del credito quindi per credo chiarezza massima e per verità documentata questa norma oggettivamente quindi non per parere di fiaip o di baccarini o di chi chi altri ma oggettivamente ripristina la compatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e l'attività di mediazione del credito ovviamente nel massimo rispetto dei requisiti di legge e dei percorsi normativi oggettivamente non vengono favoriti grandi gruppi imprenditoriali o le grandi società o si sia creato un conflitto di interesse che vada a ledere un principio comunitario perché credo tutti noi non possiamo non riconoscere che solo noi agenti immobiliari solo le nostre agenzie immobiliari che costituiamo quel 70 80 per cento di piccole realtà in virtù della legge di dieci mesi fa ci era preclusa questa possibilità di erogare questo servizio in ambito creditizio ma se ci guardiamo al di fuori della nostra porta tutte le altre grandi realtà societarie cioè le grandi società i grandi gruppi imprenditoriali già avevano e hanno le due reti voglio fare degli esempi concreti tecnocase chiron gabetti e moneti remax 24 max tempo casa più mutui casa potrei continuare ci sono tante realtà unicasa facili puntuita ci sono tante realtà grandi gruppi dove c'è un unico padrone che con uno o più rami d'azienda riescono a derogare più servizi quelli di cui accennavo prima intermediazione immobiliare intermediazione del credito intermediazione assicurativa gestione dei patrimoni loro lo potevano e lo possono fare già da anni gli unici che non potevamo farlo eravamo noi piccole realtà imprenditoriali piccole realtà professionali gli agenti immobiliari e questa legge ripristina giustizia da questo punto di vista perché consente alle nostre realtà per chi lo vorrà quindi non è un'imposizione per chi lo desidererà e riterrà un'opportunità questa apertura potrà all'interno della propria realtà instaurare quel modello di agenzia professionale immobiliare multidisciplinare dove al centro ci siamo noi e nello stesso tempo poter erogare con professionalità specifiche ecco perché noi parliamo di rafforzamento della sinergia collaborativa tra gli agenti immobiliari e collaboratori del credito perché non riteniamo che sia possibile che l'agente immobiliare possa fare entrambi i lavori così come il collaboratore del credito possa fare entrambi i lavori quindi non si può e non si deve a nostro parere parlare di svilimento l'articolato è molto chiaro da questo punto di vista ci tengo anche a sottolineare visto che si è parlato di come dire di una modalità poco lineare in relazione all'azione della nostra federazione parlo che abbia lavorato per appunto sviluppo in una categoria noi abbiamo fatto esattamente l'opposto cerchiamo con tutte le nostre forze con tutti i nostri limiti con tutte le nostre energie rappresentando le agenzie immobiliari di offrire delle opportunità in più alle nostre realtà per essere sempre più percepiti come utili dalla collettività dalla comunità e questo secondo noi è una prova tangibile è una prova concreta come ci piace operare il nostro modo di fare sindacato è e vuole rimanere assolutamente in questa direzione non ci piace avere modalità aggressive offensive parlare di ignoranza incompetenza di malafede non ci appartiene come sindacato ci piace attenerci al merito e il fatto che la proposta emendativa della nostra federazione sia stata vagliata in tutti i suoi dettagli e nel merito analizzata nel dettaglio da parte di uffici legislativi di tutte le forze politiche a parte il movimento 5 stelle ripeto e da parte degli uffici legislativi del MEF e del MISE ci dice come non tanto e non solo la nostra federazione abbia messo all'attenzione una proposta condivisa e condivisibile ma come nel merito sia stata considerata nell'interesse generale del mercato a favore dell'economia nazionale nell'interesse quindi dei mondi dell'intermediazione del credito immobiliare e soprattutto nell'interesse della collettività. Vediamo ora quali possono essere le opportunità e le prospettive future per gli operatori. Le agenzie immobiliari coloro che vorranno erogare un servizio in più in ambito creditizio attraverso una sinergia collaborativa con i professionisti del credito nel rispetto come abbiamo più volte detto dei requisiti di legge e della normativa di riferimento potranno all'interno di un'unica agenzia immobiliare della stessa agenzia immobiliare il cliente potrà trovare anche questo servizio in più per il professionista per l'agenzia immobiliare per l'agente immobiliare che vorrà strutturare la propria agenzia anche con questa con questa opportunità di servizio in più. Quindi molto serenamente dieci mesi fa con la legge voluta dall'altra associazione questa opportunità era preclusa alle nostre agenzie immobiliari oggi con il DDL concorrenza con l'emendamento voluto dalla nostra federazione si ripristina questa compatibilità e quindi all'interno della propria realtà aziendale si potrà erogare questo servizio come e voglio sottolineare nuovamente anche dal punto di vista fiscale nel rispetto massimo della della legge quindi con la fatturazione nei confronti della società di mediazione del credito che fatturerà direttamente al cliente quello che la legge prevede nessuno dice altro o più o meno di diverso oggettivamente però il cliente troverà in uno stesso luogo più servizi senza spingere invece tra virgolette spingere o dover allontanare il cliente al di fuori della propria agenzia quando ricerca un servizio ulteriore e diciamo portare il cliente al di fuori della nostra agenzia si traduce spesso e volentieri purtroppo che va in un altro luogo e poi spesso non torna più per comprare o vendere l'immobile perché ha comprato o venduto l'immobile in un altro in un altro luogo quindi noi invece vogliamo che stia all'interno della nostra realtà agenziale e sia soddisfatto e contento di trovare appunto tutte le risposte che cerca in ambito ovviamente relativo all'operazione immobiliare nei mesi scorsi la commissione europea ha chiuso la procedura di infrazione dottor baccarini ce ne parli come dicevamo in precedenza la procedura di infrazione europea è partita circa quattro anni fa a seguito di raccomandazioni del 2017 che diciamo spingevano il nostro paese ad allentare il regime delle incompatibilità nel 2019 è avvenuto un allentamento di queste incompatibilità poi però dieci mesi fa è avvenuto un'ulteriore invece introduzione di un'ulteriore incompatibilità però come dicevamo prima in quella legge voluta da quest'altra associazione di categoria poi legislatore per bilanciare quest'ulteriore incompatibilità ha aperto ai dipendenti quindi a tutti i dipendenti privati quindi lì si può leggere un'ulteriore apertura purtroppo non positiva per la nostra categoria poi con il ddl concorrenza quindi con la legge 118 2022 invece si è ottenuto di nuovo un'apertura come abbiamo visto in ambito appunto di compatibilità con la mediazione del credito e a seguito di questa apertura il 29 settembre di quest'anno quindi parliamo di poche settimane fa il dipartimento delle politiche europee quindi del governo sotto la presidenza del consiglio di ministri come fonte diciamo primaria ufficiale comunica che la commissione europea ha deciso l'archiviazione di cinque procedure di infrazione tra cui la 21 75 del 2018 cioè la nostra tra virgolette procedura di infrazione che riguardava non solo la categoria degli agenti mobiliari ma anche altre qualifiche professionali questa fonte ovviamente è una fonte governativa ma anche ovviamente confermata anzi diciamo la partenza proprio della stessa commissione europea che nell'andare a ricercare proprio la stessa procedura 21 75 del 2018 è plasticamente evidente che il 29 settembre è stata decisa ecco vorrei sottolineare che è stata decisa il 29 settembre non è stata comunicata al nostro paese la decisione di chiudere il 29 settembre è stata proprio decisa dalla commissione europea il 29 settembre la chiusura della procedura di infrazione proprio diciamo a seguito 33 giorni dopo l'entrata in vigore del BBL concorrenza che ha aperto la compatibilità appunto con la mediazione del credito l'associazione che contrasta fortemente questa questa norma ha postato recentemente invece uno scambio di posta diciamo con un funzionario del europeo che invece parla di un'altra data del 20 giugno ma come dire credo interpretando diciamo il documento che non dice in maniera palese chiara e plastica diciamo che la decisione avvenuta quel giorno ma che ci siano elementi rilevanti in quel periodo relativamente alla normativa di riferimento ma ricordiamo che la normativa di riferimento che è quella 238 2021 di cui fu recepito l'emendamento di quest'altra associazione come abbiamo detto purtroppo aveva aperto ai dipendenti privati quindi credo che probabilmente questa è un'interpretazione diciamo normativa della nostra federazione che il fatto che sia stata in qualche modo in quel periodo valutata come un elemento di apertura e quindi di allentamento delle incompatibilità purtroppo dico purtroppo credo l'elemento che abbiano valutato non sia stata l'introduzione ovviamente di un'incompatibilità ma l'allargamento l'allentamento e quindi la compatibilità con i dipendenti privati poi come si diceva decisivo è stato evidentemente l'ulteriore apertura voluta dalla nostra federazione della in relazione alla compatibilità con la mediazione del credito il 29 settembre è avvenuta una decisione che credo faccia piacere comunque debba far piacere all'intera categoria ma soprattutto all'intero sistema paese perché significa evitare sanzioni per il nostro sistema economico nazionale